Amici bentornati sul canale 9000G elaborazione autosportiva siamo qua in officina da noi riprendiamo un discorso che avevamo visto non tanti video fa aveva fatto un video con una macchina praticamente identica con lo stesso uguale problema quindi abbiamo fatto un video su una bmw 420 turbodiesel era grigia scura mi sembra questa qua è diversa con la problematica dovuta a un errato cambio olio che si è ripercosso sulla sulla turbina lo stesso identico problema stessa macchina come come ci in data con questa qui un pochino più giovane dell'altra però il motore è esattamente lo stesso quindi un 420 turbo mono turbo anche se sul coperchio punterie c'è scritto twin turbo questa non si capisce non ho mai capito come mai la bmw mette una turbina solo poi scrive twin turbo che significa doppia turbina perché utilizzano il coperchio punterie anche per altri modelli questa è la sostanza per una casa come la bmw sono piccolezze stiamo parlando veramente di minuterie però una casa come bmw gli sarebbe costato poco fare due coperchi punterie e fare il coperchio punterie per la versione mono turbo e le coperchi punterie per la versione biturbo entrando nello specifico quindi sostanzialmente vi ridescrivo quello che era successo alla volta precedente quindi anche in questo caso a maggior ragione su una macchina con ancora meno quella della volta precedente era una macchina che era un pochino più datata nonostante fosse stata aveva una targa molto recente ma era stata rimatricolata perché era estera questa invece è una macchina totalmente italiana anche in questo caso probabilmente non sappiamo la storia perché a noi portano la macchina con una problematica dovevo cercare di risolverla questo cliente ha fatto una parte di preparazione presso un altro centro ha tolto il FAP e ha rimappato fra l'altro una cosa interessante del FAP che adesso anche noi ci adegueremo a questo sistema all'interno del FAP quindi mantenendo la scatola del FAP originale al posto che lasciare il vano vuoto viene inserita una praticamente una cartuccia di lana di roccia un po come quella delle marmitte in sostanza un abbastanza similare che serve appunto per non creare la risonanza all'interno di una struttura cava perché chiaramente si crea risonanza quando si toglie il FAP ogni tanto c'è questo sibilo questa risonanza che dà fastidio si abbatte non dico totalmente ma molto quello che è l'odore di gasoglio in combusto perché senza il FAP chiaramente si sente questo odore acre non certo piacevole e si abbatte anche la rumorosità quindi diciamo con una semplice modifica una semplice aggiunta si riesce a risolvere una problematica che per anni su vetture dove i clienti chiedevano di eliminare il FAP era sempre presente quindi ritornando al discorso del lavoro che abbiamo fatto il cliente ce l'ha portata dicendo io ho fatto questo tipo di lavori dopo poco ho cominciato a sentire un sibilo una rumorosità che prima non c'era vabbè è molto difficile per uno che non ha detto al settore capire che cosa determina il tipo di rumore una volta che abbiamo acceso la macchina abbiamo sentito velocemente quello che era la rumorosità abbiamo capito subito che il problema era come l'altra volta le bronzine che probabilmente avevano diciamo si erano deteriorate e l'alberino soprattutto che aveva preso gioco infatti smontato il turbo l'alberino non era conciato malissimo però comunque aveva preso quel minimo di gioco che ovviamente lavorando sulle bronzine creava questo tipo di fischio quindi da un punto di vista pratico l'abbiamo presa e l'abbiamo sistemata adesso la macchina è perfetta dopo l'accendiamo e vi sentire non fa più nessun tipo di rumore il fatto di non intervenire per tempo la situazione chiaramente sarebbe degenerata fino ad arrivare proprio alla rottura perché nel momento in cui uno sente appena appena il sibilo non è tanto da un puntista di costi è per non arrivare a una situazione dove proprio il turbo diciamo si distrugge perché poi alla fine inizia con le bronzine parte con l'alberino e poi finisce per crepare il carter di aspirazione o di scarico quindi dato che comunque il lavoro da solo non si ripara il lavoro deve essere fatto è meglio farlo prima che non dopo adesso casano di mirco vi fa sentire la macchina accesa purtroppo non abbiamo il video della macchina precedente con il sibilo però vi garantiamo che c'era quindi avete sentito la robosità è perfettamente in linea come qualunque motore di questo genere si sente un minimo di risonanza per il discorso del fab perché come dicevo c'è questa l'ala di roccia quant'altro però non garantirà mai una pressione come se ci fosse il fab integro per cui una differenza di pressione chiaramente c'è e anche una piccola differenza meno rispetto a quando si fanno i lavori dove si toglie integralmente il fab e non si mette dentro niente lì ci sente molto più il come dire la risonanza interna però un filo di risonanza si sente anche qua diciamo che l'abbiamo ridotta dell'ottanta per cento ecco facendo una una percentuale mirco mi ricordava appunto il una specifica sulle sul tipo di lavoro che abbiamo fatto quindi riprendo il fatto che questa turbina probabilmente collassata per un cambio olio fatto non con le specifiche o con la gradazione corretta perché questi tutti i motori moderni hanno questo problema e saranno sempre più soggetti ad avere delle specifiche particolari di olio se uno butta dentro un 1040 per dire dove necessariamente ci va uno 020 tanto per fare un esempio con delle specifiche particolari perché un conto è la gradazione la gradazione dal valore a caldo e a freddo ma al di là della gradazione se uno va a vedere le specifiche non so Volkswagen 505 per dire chiaramente un utente normale non lo può sapere queste specifiche denotano il fatto che ci sono degli additivi particolari all'interno di quell'olio entrando invece nel merito del lavoro che abbiamo fatto quindi la diciamo lo smontaggio della turbina è stata revisionata completamente quindi la parte centrale è stata messa nuova quindi con il chi di lubrificazione maggiorato in questo caso è una delle prime turbine che facciamo dove abbiamo modificato il diciamo l'appoggio del dell'alberino dove abbiamo sostituito da bronzine a cuscinetti quindi questa turbina qua che nasce in origine con l'alberino che ruota sulle bronzine è stato modificato e ruota adesso sui cuscinetti quindi il discorso dei cuscinetti è poi è stato fatto chiaramente la Giranti Navional quindi il discorso dei cuscinetti segue grosso modo il concetto della Giranti Navional ovviamente ha meno inerzia è più preciso negli accoppiamenti e normalmente appunto su vetture di alta gamma turbo quasi tutte le vetture turbo di alta gamma montano delle turbine su cuscinetti e già con le Giranti Navional quindi se uno riesce a far propria questa questa tecnologia e applicarla su macchine magari un pochino più basse di livello chiaramente quelle che sono le prestazioni e le performance migliorano nettamente quindi il discorso della modifica su cuscinetti è stato importante ricordarlo perché abbiamo iniziato adesso a fare e non è possibile farlo su tutte le turbine su alcune turbine è possibile farlo dove il cliente ce lo chiede c'è una maggiorazione di costo lo facciamo volentieri un po come la situazione della Girante d'alluminio ad Avional io direi che anche per questa BMW è tutto per cui vi invitiamo a cliccare sulla campanella e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo andatevi a vedere il sito www.nomemilagiri.it soprattutto nell'archivio elaborazione dove ci sono più di 3600 schede vettura e solo di BMW mi sembra che ce ne siano più di 400 quindi con tutte le schede dei lavori fatti quindi vi potete fare veramente una cultura credo che nessuna centro di preparazione in Italia abbia un archivio elaborazione così ampio e così esplicativo come il nostro per il resto qualunque informazioni mi chiamate in sede io sono lì sempre da lunedì e venerdì per il momento è tutto un saluto alla prossima Ciao 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 Ciao